Attività commerciali in quelli che un tempo erano bassi, pagliai, ruderi e stalle delle frazioni dell'Aquila. A consentirlo è una delibera di giunta comunale messa a punto dalla passata amministrazione, approvata dalla giunta attuale e ora in attesa di arrivare in consiglio comunale, che permette il cambio di destinazione d'uso per alcuni edifici dei centri storici delle frazioni. L'obiettivo è far tornare la vita nei piccoli centri, destinati altrimenti a essere ricchi di edifici ricostruiti, ma vuoti. Sì ad attività artigianali o vendite al dettaglio di prodotti tipici, per esempio, no all'apertura invece di attività commerciali all'ingrosso o di sexy shop nei centri storici, come prevede in tutta Italia un'indicazione ministeriale. Anche se, è da ricordare, già dopo il terremoto nel 2014, un distributore automatico di sexy shop spuntò nel centro storico terremotato di una delle frazioni più popolose della città paganica. Cosa ancora più importante, anche per le frazioni del centro storico, laddove peraltro la ricostruzione, a differenza del centro dell'Aquila, o non è partita, o nei casi più fortunati è partita al 20-30%, quindi i locali idoni per riadattare le attività produttive sono ancora meno. In quel caso è ancora più esteso il provvedimento, perché consente di poter utilizzare locali e non solo locali, ma proprio edifici, cielo, terra, quindi interi palazzetti eventualmente, interi fabbricati da destinare alle attività commerciali. Ma la vera questione a ben guardare è un'altra. Con questa delibera si alza la soglia delle demolizioni nelle frazioni. Quella appena approvata è la parte finale della delibera dell'amministrazione Cialente, variante al piano regolatore, che all'epoca, a 2016, aveva l'intenzione di limitare gli abbattimenti selvaggi nel cuore delle frazioni dall'assetto urbanistico più particolare, andando a proteggere dalle demolizioni gli edifici costruiti fino al 1930. L'attuale amministrazione ha abbassato l'età di questi edifici, limitandoli a quelli realizzati entro il 1860, dunque pochissimi. Una modifica che di fatto apre la strada alle demolizioni selvagge nelle frazioni più antiche e particolari da un punto di vista storico e urbanistico.